Il sogno lucido è quello stato di coscienza nel quale ti trovi quando ti accorgi di stare sognando. È un'amplificazione del senso critico rispetto alla realtà, perché la realtà non è soltanto la realtà di veglia, ma anche è la realtà di sogno. Quanti di voi si sono trovati la mattina ad aver avuto esperienze assurde, meravigliose e di averle considerate reali. Quella in sogno è una realtà, come lo è quella della veglia, ma portare l'attenzione di tutti i giorni all'interno del panorama onirico, quella sì che è una sorpresa. Quindi il sogno lucido è scoprire, accorgersi di stare sognando mentre si sogna e lì cominceranno ad accadere cose davvero meravigliose.